Senti un po', cosa sono queste inizie tolle quali ho speso tutti i miei spegni? Interessa vederle? Sicuro che mi interessa vederle, dopo tutti i soldi che mi sono accortati avrò almeno il diritto di vederle. Va bene, guarda. Cosa te ne parli? Stupido. Questa è la cosa più cretina che abbia mai visto. Prova. Non ne ho nessuna voglia. Ok, non sei buono. Sicuro che sono buono. Cosa vuol dire che non sono buono? Dai qui, fammi posto. Non hai ancora capito che tutte le cose che sei fare tu, so fare anch'io? Ah ah. Dimene una. Sono buono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.